Sì Bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video qui The Legend oggi siamo con l'1v2 contro BM Guardate sti BM Oh ma cosa vuoi oh? Facci cazzo Proprio ora ora ti apro la testa di quanti colpi ti sparo Tremun L'altro neanche parla Fabri Dovete trovare il contenitore di dio rischio E cazzolini di coglione dobbiamo rompere il culo A me non lo sento, mi ho mutato Ben fatto che il contenitore di dio rischio è stato individuato Oh ma cosa vuoi oh? Che BM Ma cosa fate? Vi sparate a vicenda? Non riesco a prendere il drone! Non riesco a prendere il drone! Oh però non urlate! Non urlate per favore! 5 secondi Oh nooo Ufff Raggiungete la posizione di continuare il video Se BM è su qua va Oh nooo! Stop! E ora lo spiace! Perfai io qui! Perfai io qui! Perfai io qui! Va bene Guarda l'altro dove sei? Fabri UGENI FABRI 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 FALMATE DIANNE IMAUTIITO RGATSI 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 I NAB Non è vero, non ho le hack Hai le hack, hai le hack Non ho le hack Però non urlate E va bene Oh, sto twitch del... Cavolo Zitto bm Venga faccio schifo No, Fabre Fabre Ma sei un nabbo Sono un nabbo Ci mi viene solo da ridere, troppo nabbi Eh, per sfortuna l'abbiamo perso Capirei no, 8-0-2-0-3 Il nabbo del cazzo Niente ragazzi, ora li ho mutati un secondo, mettete like e iscrivetevi, ricordatevelo Ehi, bm Oh, ma ci ha mutato questo qua Oh, oh, oh Non è vero Guarda che stavo sparando al drone Come al drone? Neanche sono arrivato Neanche cosa Che nabbo Oh, ma dov'è sto drone? Oh L'ho distrutto, l'ho distrutto, l'ho distrutto L'ho distrutto No, no Mi nascondo, mi nascondo Nooo Non me l'aspettavo NABBO Eh, vabbè Che cazzo ragazzi Che nabbo No, mi fate solo ridere, mi fate Mi fate solo ridere NABBO 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 Tanto si sa che vincete voi Siete più forti Appunto, lo vedi che lo sai NABBO 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 rischio a tutti i costi risparo un colpo in testa na no raga non vedo nulla missione fallita difensori uccisi vabbè bravo ora vinco io raga ora vinco io è una brutta se ti viene bene il nostro foco mi dai il tuo canale oh no ma dove è sto drone è indiscrittibile 5 secondi raggiungete il contenitore di biorisci e difendetelo oh no aiuto no è troppo forte oh no aiuto no è troppo forte vai apprezzi il vostro tentativo raga per ora la vinco io è immortale sto nabbo se non mi sbaglio match point oh no si match point eh vabbè capita no però non vi ammazzate a vicenda ragazzi ecco il ritmo di smette che è il tuo mare barricate la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di bioriscio ma quella di Clash Royale vero? quella di Clash Royale? tipo tipo ah ok ma perchè io questi ebrei due che muovi non li conosco poi sono immortali ma non è vero ora io chiamo a mia mamma ora io chiamo a mia mamma ma non è giusto ma non è giusto ma non è giusto ma non è giusto ma cosa fai ma cosa fai ma bo ma se è un nabbo ma cosa fai ma cosa fai ma cosa fai la zona controllata dal nemico lasciala subito ti hanno visto il nemico ha visto il contenitore di bioriscio ah vabbè ragazzi ci avete provato ragazzi se volete la rivincita contro questi due bm arriviamo a 20 like in questo video vi ringrazio vi ringrazio salutate salutate il video no io non ti gioco più grazie